In questo video con me che sono Deborah e con Opel Corsa l'abbiamo portata in questo 1200 cavalli benzina con cambio automatico e AT8 è una city car, una delle city car più in voga dal 2020 possiamo dire abbiamo la calandra con i classici baffi che partono dal logo centrale andiamo a vedere i gruppi ottici con L rovesciata che sono full led ci spostiamo sul laterale, in questo allestimento i cerchi non sono in lega ma sono da 16 pollici spostiamoci di lì che forse è più luminoso andiamo a vedere le dimensioni, sono 4 metri di lunghezza, larga 1,76 m, alto 1,43 m è in questo bellissimo orange fitz che io personalmente adoro l'allestimento è edition e vediamo che ha a contrasto gli specchietti e tutto il bordo della finestratura spostiamoci nel posteriore, anche qui abbiamo dei dettagli in nero lucido lo spoiler in nero lucido andiamo ad aprire il bagagliaio che è da 309 litri che diventano 1120 abbattendo i sedili posteriori abbiamo un po' di dislivello, la soglia di carico non è comunque altissima è in linea con la categoria, comunque il vano porta bagagli non è per nulla male rispetto alle altre city car andiamo a vedere lo spazio posteriore Alex riesce ad aprire, ti apro io, prego eccoci qui, salgo a bordo eccoci qui allora, il sedile avanti è impostato sulla mia altezza che è 1,70 m, io ho una spanna davanti alle ginocchia e 4 dita sopra la testa lo spazio è più adatto a 4 persone in auto piuttosto che 5 comunque il quinto passeggero, magari un po' più piccolino, ci starà anche qui abbiamo gli attacchi Isofix coperti da queste cerniere e su tutte e due i sedili laterali andiamo davanti e vediamo com'è lo spazio a bordo in abitacolo allora, eccoci qui come possiamo vedere abbiamo tutto un gioco di nero, nero lucido e qualche inserto grigio andiamo ad accendere la vettura prendendo le chiavi eccoci qua ecco qua, abbiamo l'infotainment con appunto la radio, la radio dub, gli audio esterni il navigatore in questa versione non è presente ma grazie a Apple CarPlay e Android Auto potremo andare a usare Google Maps quindi possiamo facilmente sopperire alla mancanza abbiamo poi il Bluetooth e tutte le impostazioni del veicolo non mancano i comandi al volante con il comando vocale e il cruise control e il limitatore di velocità e guardate qua, abbiamo anche il cambio al volante andiamo giù che vi dico, aspetta aspetta aspetta, drive mode con la possibilità di impostare tra normale, eco e sport per la modalità di guida andiamo giù che vi dico i consumi e di quando è questa bellissima auto allora, come consumi abbiamo 15,6 km con un litro nell'utilizzo misto una cosa che non vi ho detto, che ha i sensori anteriori e i posteriori e l'elettrocamera di parcheggio è di settembre 2020 con 22.900 km 1.200 CV benzina con cambio automatico e AT8 la trovate su rattix.com ex-Rattix